Manca solo il voto finale al varo della legge di riforma degli enti locali, un via libera che arriverà nella seduta in programma stasera. Cambia la geografia politica dalla Sardegna che sarà suddivisa in due città metropolitane di Cagliari e Sasseri e sei province, Nuoro, Oristano, Nord-Est, Ogliastra, Sulcisiglesiente e Medio Campidano. Ieri in aula tutti i nodi che avevano fatto slitare l'approvazione della legge sono stati sciolti, in particolare quello relativo al commissariamento della città metropolitana di Cagliari, passata da 17 a 71 comuni. Una questione che vedeva posti i Fratelli d'Italia e l'Udc. Alla fine ha prevalso un compromesso gradito anche al Presidente della Regione, Cristian Solinas. Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzo, sarà commissario per i 17 comuni che componevano la vecchia città metropolitana, mentre il Governatore nominerà un nuovo commissario per i restanti 54. Sono stati superati anche altri due ostacoli che rischiavano di dilattare i tempi di approvazione della legge. Il Consiglio regionale, alla fine di un lungo tira e molla, ha dato il via libera all'emendamento che assegna alla Regione la competenza sul rilascio di tutte le concessioni dei manieri marittimi attualmente attribuita ai comuni. Una norma che risolve alla radice il contenzioso tra Regione e Comuni, come quello di Olbia, sulla proroga delle concessioni balneari al 2033, stabilita da una legge nazionale. Via libera anche all'emendamento 39 che per l'emergenza Covid rinvia le elezioni comunali previste in primavera. Si faranno una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Varato anche l'emendamento 34 che affida al Presidente della Regione la nomina di nuovi commissari delle città metropolitane e delle province entro 30 giorni dall'approvazione della legge. Resteranno in carica fino all'insediamento degli organi di governo, la cui elezione dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2021. Grazie.